Fu l'unica donna abruzzese a diventare membro dell'Assemblea Costituente era il 1946, Filomena degli Castelli, insegnante e successivamente rappresentante della politica, nata a Città Sant'Angelo nel 1916, dopo una lunga carriera si è spenta nel dicembre del 2010. L'Abruzzo la ricorda tra le personalità di spicco della sua regione ed oggi, con una cerimonia a lei dedicata, le intitola una sala nella sede del Palazzo della Regione di Pescara, alla presenza di istituzioni e giovani studenti legati alla sua storia. Lei è una testimonianza forte per i nostri ragazzi, è la testimonianza di una donna che ha dedicato la sua vita al bene comune, il suo ABC era agire per il bene comune. Oggi si parla di introduzione di Quote Rosa, pensando alla figura di Filomena degli Castelli, la donna non era riconosciuta come qualcosa di estranea alla politica oppure lei era riuscita a dare un'immagine diversa? Ma lei certamente era riuscita dove altre non sono riuscite, perché è accaduto allora ed accade ancora oggi, che chi ha la possibilità, chi ha i mezzi economici per organizzarsi riesce ugualmente. Ci sono delle donne molto brave che però non hanno la possibilità di provvedere alla propria organizzazione della casa, della famiglia e quindi in questo caso deve intervenire lo Stato con le politiche di conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. E poi in questo momento è importante che si intervenga anche per riservare delle quote alle donne, che altrimenti rimangono indietro e noi non riusciamo a recuperarlo a questo ritardo culturale che abbiamo.